no salve a tutti i genti io sono manzo e oggi rega aspettate che metto a posto un po' i capelli perchè ho l'ultima, la penultima ho fatto palestra quindi sono un po' sudato sudato quindi rega in questo video vi parlerò rega delle news che ci saranno ovviamente in questi giorni che sono accaduti così e anche degli impegni, delle cose che farò nel mese di dicembre c'è tipo che impegnerò, cose del genere però prima rega parliamo del presente allora la prima news rega è che praticamente io ho registrato outlast, l'ho registrato, lo volevo mettere su ieri scusate solo che allora ieri sera sono andato a casa di nico che mi aveva chiesto cioè io gli avevo chiesto se c'era per halloween però ha detto che non lo sa, non è ancora detto che c'è e praticamente rega lui grazie alla storia di Halloween mi aveva chiesto se volevo se mettevo il video di outlast ad halloween come speciale rega cioè no, dopo ci ho pensato su ed era proprio una bella genialata rega perché mettere su un video su outlast ad halloween è anche bello rega io avevo in mente di fare un'altra cosa però outlast è più da halloween ecco e questa era la prima la prima news la seconda news rega è che praticamente stasera o domani probabilmente stasera mio padre andrà a giocare la schedina di calcio però rega che in realtà l'ho giocata io cioè nel senso rega praticamente chi mi seguo su instagram lo sa già perchè ho messo un video ah chi non mi seguo su instagram se volete andarmi a cercare mi chiamo manu007 youtube e niente rega allora stasera mio padre andrà a giocare la schedina però che in realtà ho giocato io perchè ho messo io tipo le quote nel senso x2 x1 x allora rega mentre vi dirò anche le partite vi spiegherò che cosa significa 1 x 2 1 2 gol 1 gol e ora rega infatti ve le spiego che cosa consiste rega questa specie di schedina consiste tu giochi delle partite quelle che vuoi anche di champions league di europa league anche dei mondiali cose già ovviamente quando ci saranno e anche coppa italia tutto rega tutto sul calcio e praticamente voi scegliete delle squadre scegliete la quota che ora vi farò le quote sono 1 che significa che vince quella in casa x che significa che pareggiano tutte e due le squadre due che significa che vince quella in trasferta 1 x significa che vince quella in casa oppure vince quella in trasferta e oppure pareggiano scusate rega e x2 significa che pareggiano oppure vince quella in trasferta 1 2 rega significa che vince la quella in casa oppure vince quella in trasferta oppure vince quella in trasferta quindi io nelle partite più difficili metterò sempre 1 o 2 rega e non si sa mai e goal no goal mi sa che significhi goal mi sa che facciano tutte e due le squadre goal e no goal mi sa che non facciano goal rega non lo so questo qua però rega vi dico delle squadre che ho giocato alcune squadre in tutto hanno giocato 19 rega e non ho il foglio perchè l'ha preso sul mio padre che ora è al lavoro ce l'ha nel portafoglio quindi non riesco a dirvelo però alcune me le ricordo allora ho giocato mila juventus ci ho messo x2 cioè che vince la juve oppure pareggiano torino lazio ci ho messo 1 o 2 che sono tutte e due le squadre dello stesso livello circa quindi ci ho messo che vince o la lazio o il torino e poi empoli chievo x2 che pareggia che pareggiano o vince il chievo poi chi ah cagliari fiorentina rega ho messo sempre x2 perchè ho visto che il cagliari sta un po' un po' proprio migliorando non si sa mai rega gioca anche in casa non si sa mai quindi ho messo che pareggia oppure vince la fiorentina e poi queste qua sono tutte le cose italiane nel senso queste qua sono le uniche squadre di serie A che ho giocato poi rega la aspettate che c'è una luce ah ecco e poi hm ah vi dico quelli inglesi allora ho giocato il manchester city contro i southampton rega che ho messo ehm 1x mi sa manchester city southampton che vuol dire che vince i city oppure pareggiano perchè southampton ho visto che è abbastanza su e poi rega ehm ho messo celsi in manchester united ho messo x2 che vince il manchester united o pareggiano poi ah arsenal contro i midsburg ehm che vince l'arsenal o pareggiano io rega ho messo le quote in base alla classifica quindi ehm anche quello e poi molte altre molte altre e niente rega spero di vincere la schedina ovviamente ragazzi danno un premio in soldi quindi andranno a me i soldi poi rega terza news molto ma molto molto bella domenica forse 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 non è ancora detto ehm la mamma di chero di nico chero mi aveva chiesto se domenica andavo a gardaland con loro a gardaland quindi i miei ci stanno pensando su perchè ragazzi perchè ci stanno pensando perchè domenica ha messo pioggia pioggia quindi è per quello che non si sa ancora comunque rega se ehm se ehm se ci vado rega ve lo dico nel vlog di domani che farò che ehm se allora domani io farò un vlog se però voi mi vorrete che porto sul canale lo lo spacchettamento dei pokemon rega ditemelo perchè ehm domani domani pomeriggio rega tipo vado a prendere gli spacchettamenti dei pokemon e ve lo porto sul canale immediatamente in cui vi dirò ehm se farò ehm se andrò a gardaland o no e perchè rega io mi devo anche mettere avanti nei compiti c'è un bottello di conti quindi anche quello devo sapere e niente poi cos'è che vi vorrei dire ah rega un'altra cosa lunedì ho registrato ho recato con banner banner david e johnny la crossbar challenge che non so non so quando uscirà dopo non lo so rega forse probabilmente questo mese o la metà cioè non lo so rega vi saprò dire e niente rega spero che questo video vi sia piaciuto lasciate dei like commentate iscrivetevi al canale seguiti su instagram manzo youtube andate me to ask crash of clans rega io vi dico rega perchè e io perchè non mi vedete molto spesso su clash of clans su clash of clans rega mi son disinstallato un botto di volte clash of clans perchè stavo per rompere quasi la psv rega ecco perchè mi ha fatto incazzare perchè rega qua intanto c'è il mio telefono aspetta ehm si rega avevo perso una partita con un mazzo della madonna 4.8 però era della madonna ci vincevo sempre niente ho perso c'era la mia psv lì ho fatto così brrrr è caduta quasi rega se è rotta quasi non del tutto ma quasi se è rotta quindi rega ecco perchè non faccio clash real però clash of clans invece non mi fa molto incazzare mi fa un pò imbestialire quando mi attaccano e perdo il mio villaggio però clash of clans mi chiamo Manu007 youtube tutto maiuscolo il trattino basso iti tutto maiuscolo eeeh su rainbow sempre fozzo juventus 082 call of duty m7 youtube fozzo juventus 082 eeeh rega basta comunque rega eeeh lasciatevi like commentate iscrivetevi al canale e ciao a tutti ah raga mi sono scusato di dirvi una cosa è che praticamente eeeh cioè le cose del futuro è che erano praticamente dicembre che cosa farò i giorni tipo i natale santo stefano e vigilia allora vigilia di natale non porterò video ovviamente ma a natale cheeeh vi porterò un video in cui farò tutto vedere tutti i regali che mi hanno portato a natale e a eeeh santa lucia eeeh poi essendo stefano non porterò video perchè rega sono in compagnia di mio cugino metà la vigilia di natale e perchè mmmm c'è 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 così mmmm un giorno di pausa e così eeeh comunque rega nel 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 nelle vacanze rega diciamo che farò abbastanza video cambiando la grafica forse 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 rega cambiando la grafica e forse anche il canale perchè rega allora il canale manucrafica ci sarà sempre però il mio secondo canale se ci lavoro rega si chiama forza juventus 082 eeeh oppure manucrafica 007 non lo so rega eeeh no praticamente mmmm eeeh lì editerò su share factory una un'app che c'è sulla ps4 e che cosa registrerò ovviamente rega se me lo regarano per natale i miei genitori registrò con el gato quindi rega queste qua sono un po' le news del futuro cioè del di dicembre ecco eeeh niente rega comunque ciao a tutti me lo rega eeeh o me lo rega eeeh il non